Musica Padula ha presentati i primi due bandi del Gallo Vallo di Diano, presenti i tecnici della regione. Sanità, dateggiano la denuncia per effettuare esami diagnostici delicati a Polla, dall'ospedale arrivano i chiarimenti. Capaccio Pestomo, operazione della DIA, sequestrati beni per 3 milioni e ha pregiudicato, ritenuto responsabile di reati mafiosi. Festa delle donne, le iniziative nel Vallo di Diano. Calcio, Brienza campione con un gol di D'Alto, gli appuntamenti nel fine settimana delle squadre valdianesi. Buonasera e bentrovati al Tg di Uno News, in apertura alle tematiche economiche. Nel pomeriggio di ieri, presso l'Aula Consigliare della Comunità Montana, si è tenuto l'incontro di presentazione dei primi due bandi emessi dal Gallo Vallo di Diano. Due bandi che mettono a disposizione del territorio 800 mila euro, destinati al potenziamento delle imprese agricole. Per Attilio Romano, fondamentale cercare di essere informati perché è necessario dimostrare di saper investire. Sentiamo il servizio. Serve partecipazione per poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi del Gallo Vallo di Diano per lo sviluppo rurale. Ed è proprio per facilitare la partecipazione e la conoscenza delle diverse opportunità su cui si sta lavorando che il Consiglio d'Amministrazione del Gallo ha deciso di promuovere incontri informativi su diversi interventi. Punto essenziale degli investimenti, come ribadito ieri sera dal Presidente Attilio Romano, non è spenderle risorse a disposizione, ma spenderle bene. Ci aspettiamo partecipazione e coinvolgimento, naturalmente. È naturale che per attendersi questo tipo di risposte anche noi dobbiamo fare delle cose. Io credo che il Consiglio d'Amministrazione lo abbia fatto perché ha coinvolto in prima persona tutti i soggetti, almeno diciamo tutti, gran parte dei soggetti che sono interessati a vivere delle esperienze con il Gallo. Noi non abbiamo soggetti esterni al territorio del Vallo di Diano e a partire dai professionisti è un incarico, una modalità precisa che ci siamo dati come Consiglio d'Amministrazione che stiamo rispettando e quindi facendo lavorare le professionalità locali brillanti, competenti e capaci che ci sono sul territorio. Ovviamente allargheremo l'organico per quello che ci darà la possibilità, la dotazione finanziaria che ci è stata assegnata, ma al tempo stesso appunto ci aspettiamo questo coinvolgimento da parte del territorio e la partecipazione a questi bandi proprio perché noi dobbiamo cercare non solamente spendere tutte le risorse che ci sono state assegnate, ma anche spendere nel migliore dei modi. Nella serata di ieri presso la ola delle conferenze della comunità montana Vallo di Diano sono stati presentati i primi due bandi del Gallo nell'ambito della misura 19 illustrata dalla dottoressa Rosanna Lavornia, ribadendone l'utilità per riuscire a creare opportunità e lavori in un territorio rurale ricco di eccellenze. Questo può essere uno sviluppo per il territorio, innanzitutto anche per i giovani che si vogliono cimentare per la prima volta in questo mondo diciamo rurale per non far andare via le persone dal territorio, quindi creare delle attività anche ad esempio con la 621 noi eroghiamo un premio di 40.000 euro anche per le attività extra agricole e quindi diamo la possibilità di far rimanere queste persone sul territorio dando un'opportunità diversa anche dal settore agricolo. Le tipologie di intervento 4.1.1 e 6.4.1 dedicate al settore agricolo sono state illustrate dai tecnici della regione Campania. Inoltre il dottor Giovanni Desio nell'illustrare la misura 4.1.1 ha anche suggerito nuove idee di coltivazione su cui poter investire come ad esempio l'alga spirulina ricca di proteine vegetali. Presenterò anche qualche spunto relativo a qualche possibilità di introdurre coltivazioni nuove che ultimamente sono entrate sul mercato e che scontano una domanda veramente interessante. Questo è di integrazione di quanto già si produce nelle aziende, proprio come un'interagazione del reddito. Abbiamo organizzato una serie di attività proprio per stare ed accompagnare i giovani ma anche le aziende agricole, gli imprenditori agricoli verso l'utilizzo efficiente delle risorse comunitarie. Nell'incontro di ieri si è parlato anche di strategie delle aree interne a cui si sta lavorando in maniera complementare con i fondi del GAL al fine di creare le ambiti e opportunità di sviluppo e crescita del territorio. Per il presidente del GAL Attilio Romano e per il presidente della comunità montana Vallodidiano Raffaele Accetta che in questi anni stanno lavorando in sinergia per evitare l'accavallarsi di opportunità è necessario saper investire al meglio le risorse oggi per poter raccogliere nel domani i frutti. Ora la sanità. Attraverso un post pubblicato sul social network Facebook una signora di Teggiano lamenta difficoltà ad effettuare esami diagnostici a Polla. Dall'ospedale però arrivano i chiarimenti. Sentiamo. Una signora di Teggiano denuncia le difficoltà riscontrate nell'effettuare esami diagnostici di particolare delicatezza presso l'ospedale di Polla con l'aggravante di non poter usufruire di centri convenzionati visto l'esaurimento dei tetti di spesa da parte della regione. La denuncia della donna parte dal momento della prenotazione degli esami. Nel rivolgersi al centro unico prenotazioni per la prenotazione di due diversi esami radiologici di controllo scopre di non poter effettuare nessuno dei due esami presso l'ospedale del territorio ma di doversi spostare a Sapri per la radiografia e a Vallo della Lucania o Eboli per la risonanza magnetica peraltro con l'ulteriore beffa della lunghissima attesa dato che la prima prenotazione utile era disponibile per fine maggio o primi giorni di giugno. Mi sono attivata, spiega la signora, cercando di prenotare presso i centri radiologici convenzionati ricevendo però come risposta l'impossibilità di effettuare l'esame di risonanza magnetica perché la regione Campania ha sospeso le convenzioni. In particolare la donna lamenta anche l'impossibilità di effettuare tali esami presso l'ospedale Pollese parlando di un Vallo di Diano che muore ogni giorno. Dalla direzione sanitaria e dal reparto di radiologia spiegano che ci si sta attivando per risolvere i problemi potenziando il servizio. Per ciò che riguarda l'esame radiografico richiesto, una mammografia, è stato spiegato che al momento non è possibile effettuarlo a Polla in quanto la moderna e nuova strumentazione al momento non è stata ancora installata. Il coordinatore del reparto di radiologia, Graziano Vocche, infatti fa sapere che sono in corso i lavori di adeguamento delle sale dove sarà installato il nuovo mammografo. Tali lavori dovrebbero concludersi entro la prossima settimana e il mammografo sarà installato e quindi funzionante tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, come assicurato dal direttore Luigi Mandia. Per ciò che riguarda invece la risonanza magnetica, il dottor Mandia chiarisce che tale esame non è possibile effettuarlo presso l'ospedale di Polla in quanto l'apparecchio in dotazione non essendo di ultima generazione non riuscirebbe comunque a rivelare nel dettaglio eventuali patologie. In questo senso in particolare assicurano dall'ospedale ci si sta muovendo per far sì che arrivi presso il presidio ospedaliero pollese un nuovo apparecchio di ultima generazione capace di offrire una diagnosi chiara, efficace ed immediata. Voltiamo pagina. A Padula è stato bandito un concorso per realizzare un marchio Deco. Servirà a identificare i prodotti agroalimentari, artigianali o artistici tradizionali del territorio. Il servizio. Il comune di Padula retto dal sindaco Paolo Imparato ha bandito un concorso per realizzare un marchio Deco di denominazione comunale di origine allo scopo di identificare i prodotti agroalimentari, artigianali o artistici tradizionali del territorio. Il marchio Deco dovrà essere originale, facilmente distinguibile, dovrà richiamare alla mente il territorio e le attività tipiche della città di Padula e contenere l'espressa indicazione città di Padula e denominazione comunale. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini dai 16 anni in su residenti nel comune di Padula. La partecipazione può essere sia individuale che di gruppo, ad esempio in classi di alunni. Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto. Gli elaborati saranno poi valutati da una commissione composta da 5 membri che sarà nominata con provvedimento del sindaco. Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 30 aprile. Le domande dovranno essere presentate in applico sigillato all'ufficio protocollo del comune di Padula o spedito attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le informazioni sono disponibili sul bando pubblicato sul sito internet del comune di Padula. Anche l'importante comune del Vallo di Diano quindi avrà presto marchio Deco un riconoscimento concesso ai prodotti strettamente collegati al territorio e alla comunità allo scopo di valorizzare le attività agroalimentari tradizionali. Il logo servirà ad identificare una filiera di prodotti agricoli e zootecnici in grado di dare maggior risalto al settore agroalimentare di un territorio a forte vocazione turistica data la presenza della Certosa di San Lorenzo. Un turismo che certamente troverà un'occasione di incremento con la presenza di prodotti tipici agroalimentari certificati dal marchio Deco. La cronaca. Nuova operazione della DIA di Salerno che questa mattina ha effettuato un sequestro di beni per 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle onoranze funebri pregiudicato, arrestato nel 2014 e condannato per il reato di associazione di tipo mafioso. I beni sequestrati sono nella disponibilità dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sentiamo i dettagli nel servizio. Nella mattinata odierna la sezione operativa della DIA di Salerno ha eseguito un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione patrimoniali della Corte di Appello di Salerno nei confronti di un imprenditore pregiudicato già operante nel settore delle onoranze funebri, elemento affiliato allo storico clan camorristico Marandino tuttora attivo a Capaccio Pestum e in altri comuni della Piana del Sele. Il provvedimento odierno scaturisce dal decreto di sequestro per la confisca dei beni riconducibili al predetto due società, un vasto complesso immobiliare, auto di lusso, rapporti bancari per un valore di circa 3 milioni di euro. Emesso dal Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione ed eseguito sempre dalla DIA il 20 marzo dello scorso anno nei confronti degli imprenditori e di alcuni terzi interessati. A riguardo, particolare significato era stato attribuito all'analisi del contenuto delle investigazioni condotte nel 2014 dalla squadra mobile della Questura di Salerno al termine delle quali l'imprenditore era stato tratto in arresto unitamente ai vertici del locale clan camorristico Marandino perché ritenuti organici a un'associazione di tipo mafioso dedita alle estorsioni mediante condotte poste in essere con l'aggravante del metodo mafioso. In tale ambito il Tribunale di Salerno, avendo evidenziato significativi elementi di responsabilità a carico dell'imprenditore sia nella partecipazione alla citata consorteria di Camorra sia nel tentativo di estorsione perpetrato dal medesimo nei confronti di un imprenditore locale anche egli titolare di una ditta di onoranze funebri, settore particolarmente delicato in cui il clan Marandino aveva deciso di investire al fine di creare una sorta di monopolio nei territori di Agropoli e Capaccio Pestum. Per la vicenda in argomento l'imprenditore è stato condannato in primo grado con pena ridotta in appello e confermata di recente incassazione per il reato di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata del metodo mafioso. Avverso il decreto di sequestro in argomento era stato proposto il ricorso in appello in particolare anche sulla scorta di mirati approfondimenti condotti dalla DIA l'autorità giudiziaria locale aveva evidenziato l'effettiva sussistenza nella disponibilità del proposto e con riferimento al periodo in cui poteva essere qualificata la pericolosità sociale dello stesso di ulteriori e significativi beni. Al termine dell'udienza camerale la sezione delle misure di prevenzione della Corte di Appello di Salerno ha emesso il provvedimento patrimoniale odierno con cui ha disposto il sequestro della villa appartenente all'imprenditore e ubicata nel comune di Capaccio Pestum per un valore di circa 800.000 euro. Con lo stesso provvedimento è stata anche disposta la restituzione alla coniuge delle partecipazioni societarie nella ditta di onoranze funebri con sede a Capaccio Pestum nonché all'imprenditore del capitale sociale della ONLUS a lui riferibile operante nel settore dei servizi di trasporto mediante ambulanza con sedi legali ad Agropoli. Al termine delle operazioni tutti i beni sottoposti a confisca sono stati messi nella disponibilità dell'amministratore giudiziario nominato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Oggi 8 marzo si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alla donna diverse le iniziative organizzate nel Vallo di Diano. Sentiamo il servizio. Si celebra oggi la giornata internazionale della donna per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono purtroppo ancora oggi oggetto in diverse parti del mondo. Tante le iniziative organizzate nel territorio del Vallo di Diano e degli Alburni. Roscinio oggi si veste di rosa e ricorda anche le donne vittime di violenza depositando fiori presso la panchina rossa. Don Antonio Romaniello, parroco della comunità religiosa, ha parlato della donna nella Bibbia. A Sassano invece è stato organizzato un corteo celebrativo dal titolo Libera a cuore di donna per onorare la memoria di Libera, una delle 26 migranti che furono ritrovate senza vita a bordo della nave spagnola Cantabria a Salerno nel novembre 2017. Libera ha poi trovato degna sepoltura nel cimitero di Sassano dove stamattina si è svolta una cerimonia commemorativa con la deposizione di un mazzo di mimose. Il comune di Sant'Arsenio invece oggi celebrerà la festa della donna dalle 17 presso il Teatro Comunale Amabile con l'iniziativa Il diritto di contare. Dopo i saluti del sindaco Donato Pica, della consigliera con delega ai servizi sociali Rosanna Pistone e di Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio Sociale S10, sarà proiettato il film Il diritto di contare. Ne seguirà un dibattito moderato dalle operatrici del Centro Antiviolenza a Retusa, le dottoresse Elisabetta Giordano e Michela Lammardo. La festa della donna è una manifestazione nata negli Stati Uniti dove si celebra dal 1909, in alcuni paesi europei si festeggia dal 1911 e in Italia dal 1922. La storia è lunga e complessa e bisognerà aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere l'arrivo della festa accompagnata dalla mimosa così come la conosciamo oggi. Fu l'Udi, l'Unione Donne in Italia, a prendere l'iniziativa di celebrare l'8 marzo del 1945, la prima giornata della donna nelle zone dell'Italia libera, mentre a Londra veniva approvata e inviata all'ONU una carta della donna contenente richieste di parità di diritti e di lavoro. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946, fu celebrata in tutta Italia e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa. Anche Assanza e San Rufo hanno deciso come utilizzare i fondi messi a disposizione delle piccole realtà dal Governo, così come previsto nella legge di stabilità 2019. Vediamo i dettagli nel servizio di Rosa Romano. Anche Assanza ha deciso come spendere i fondi messi a disposizione dal Governo per i comuni sotto i 20.000 abitanti. I suoi 50.000 euro li userà per la riqualificazione dell'area di pertinenza della scuola media attraverso la realizzazione di un campetto polifunzionale, basket e pallavolo dotato di impianto di illuminazione notturna, un giardino per i giochi, un orto botanico per i bambini a servizio della scuola. Renderemo, ha commentato l'assessore alle politiche sociali Marianna Citera, uno spazio inutilizzato, vivo e fruibile. Ringrazio per la celerità con la quale ha colto le nostre esigenze e le indicazioni, l'ufficio tecnico del Comune, che in pochi giorni ha realizzato il progetto e sta provvedendo alla sua concretizzazione. Entro la fine dell'anno scolastico, a concluso, inaugureremo una nuova area al servizio dei nostri piccoli. Il Comune di San Rufo, invece, che riceverà 40.000 euro con quei soldi a disposizione, provvederà a sistemare e mettere in sicurezza la viabilità comunale. Altri enti del comprensorio hanno già deliberato nelle scorse settimane sulla destinazione dei fondi. San Pietro Altanagro, con 40.000 euro, eseguirà lavori di sistemazione straordinaria delle strade comunali. Monte San Giacomo, con 40.000 euro, interverrà sull'antico lavatoio pubblico Fontana Silvana e la messa in sicurezza delle strade. Teggiano userà i suoi 70.000 euro per piazza Portello e per la sestimazione delle strade. Sala Consilina, che riceverà una somma più cospicua, 100.000 euro, ha deciso di utilizzarla per la messa in sicurezza e il rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Corso Vittorio Emanuele. A Casalbuono, invece, 40.000 euro saranno spesi per la rete idrica comunale. I comuni, prevede la norma, sono tenuti a far partire i lavori prima del prossimo 15 maggio, appena la revoca del contributo. La destinazione dei fondi è vincolata a interventi per piccole opere su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L'ammontare del contributo non è uguale per tutti i comuni, ma è calcolato sulla base del numero di abitanti. Voltiamo pagina. Avrà luogo domani, sabato 9 marzo, alle 9.30, l'intitolazione a Gio Petrosino del comando di polizia locale in via chiusa a Padula. La cerimonia si tiene in occasione del 110 anniversario della morte del poliziotto italoamericano, avvenuta il 12 marzo 1909 a Piazza Marina a Palermo per mano della mafia. La proposta, nata dall'Associazione internazionale Gio Petrosino di Padula, è stata immediatamente accolta dal comune che si è attivato con gli uffici della prefettura. Domani mattina saranno presenti il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, il senatore Francesco Castiello, il consigliere regionale Franco Picarone, il tenente colonnello vicecomandante dei carabinieri di Salerno Massimo De Masi, il capitano Davide Acquaviva e comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina. Ci sarà inoltre il sindaco di Castelverde, Graziella Locci, comune gemellato con Padula e gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo locale. A Padula è già arrivata la delegazione del LTDET Joseph Petrosino in America insieme agli agenti del New York Police Department. Ora qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Ben ritrovati all'informazione di Uno News. Il centro antiviolenza retusa del Consorzio Sociale S10, gestito da Differenza Donna ONG e la consulta delle amministratrici del Vallo Didiano e Tanagro, anche quest'anno aderiscono allo sciopero delle donne previsto su base mondiale per 24 ore in occasione dell'8 marzo. Su richiesta della rete Non Una Di Meno e dell'Associazione Dire, lo sciopero è stato sostenuto ufficialmente da diverse realtà del sindacalismo di base, per cui tutte le lavoratrici del pubblico impiego e del privato potranno scioperare perché esiste la copertura sindacale generale. Il centro a retusa aderisce allo sciopero con la chiusura per tutta la giornata di oggi, garantendo in ogni caso la reperibilità H24 al numero verde 841 33 00 e darà il proprio contributo alla sensibilizzazione sul tema partecipando ad incontri di sensibilizzazione e informazione sulle motivazioni di questo sciopero. In arrivo dal governo che ha sbloccato 50 milioni di euro fondi per 15 comuni salernitani per combattere la dispersione scolastica. Tra i beneficiari c'è anche Montesano sulla Marcellana. Sentiamo Rosa Romano. Il governo ha sbloccato 50 milioni di euro di fondi da utilizzare per combattere la povertà educativa minorile e l'evasione scolastica. A beneficiarne le scuole di 292 aree del territorio italiano. Di queste 71 sono in Campania e 15 in provincia di Salerno. Altavilla Silentina, Castel San Giorgio, Eboli, Fisciano, Maiori, Monte Corvino Rovella, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Ponte Cagnano Faiano, Salerno, Sarno, Scafati e Sicignano degli Alburni. Con i soldi a disposizione potenzieranno le strategie a tutela degli studenti a rischio evasione. Finanzieranno progetti didattici nelle scuole per contrastare la dispersione scolastica. Lo scorso dicembre un'analisi dell'ufficio scolastico regionale effettuata su un campione di 3.700 ragazzi iscritti alle scuole medie del Salernitano aveva lanciato l'allarme. Tra Salerno e provincia è venuto fuori, ci sono almeno 100 studenti tra gli 11 e 14 anni che non frequentano con regolarità le lezioni. La mancata frequenza e le assenze prolungate diventano poi spesso abbandono definitivo della scuola. Su circa 98.000 studenti delle superiori almeno 15.700 non hanno una frequenza assidua alle lezioni e abbandonano gli studi tra il terzo e il quarto anno. Il fenomeno dei banchi vuoti non dipende qui solo dal crollo democrafico ma anche dall'abbandono delle lezioni. Un trend negativo che va affermato come avvicinando i ragazzi all'istituzione scolastica con attività in cui possano sentirsi coinvolti e interessati. Ecco allora l'obiettivo dei fondi, finanziare i progetti in grado di togliere i ragazzi dalla strada e tenerli impegnati in attività sportive o progetti didattici pomeridiani coinvolgendo enti, associazioni, strutture di promozione sociale, federazioni sportive. Ora parliamo di teatro, ancora quattro appuntamenti della sedicesima edizione di Teatro a Casa a Marone. C'è un cambio di programma rispetto al cartellone iniziale. Sentiamo i dettagli nel servizio. Cambia il programma delle ultime serate di Teatro a Casa a Marone. Domani 9 marzo al posto della compagnia Tempo e Memoria di Polla si esibirà la proposta di Altavilla silentina con la commedia Una casa di pazzi di Roberto D'Alessandro e la regia di Alfredo Crisci. Una commedia che miscela comicità e drammaticità, che tira fuori grandi risate e profonde riflessioni sulla difficile gestione dei disabili mentali tra le quattro mura domestiche. Racconta la storia di due fratelli, Attanasio e Remigio, che vivono da poco sotto lo stesso tetto, a seguito della morte del vecchio padre che sul punto di andarsene raccomanda ad Attanasio di prendersi cura del fratello malato di mente, ormai rimasto solo nella casa padronale. Attanasio si trova così a gestire una situazione più grande di lui, fatta della nuova interazione con Remigio e dei precari equilibri all'interno della famiglia. Sullo sfondo l'assenza di un sostegno sociosanitario. Dopo la proposta di Altavilla silentina ancora pochi appuntamenti della sedicesima edizione di teatro a Casa a Marone che si avvia alla conclusione. Il 16 marzo si esibirà la compagnia Edoardo di Sala Consilina con lo spettacolo a piedi nudi nel parco e recupera così la serata saltata a causa del baltempo. Il 23 invece sale sul palco la compagnia di casa, gli amici del teatro di Monte San Giacomo con lo zio d'America. E sempre gli amici del teatro saranno i protagonisti della serata conclusiva che sarà domenica 24 marzo con uno spettacolo a sorpresa. Lo sport, il calcio, la finale di Coppa Italia a promozione Mauro Tartaglia è andata all'abrienza grazie ad un colpo di testa vincente di Vincenzo Dalto. Sentiamo. Una partita vincente è che ha scatenato l'euforia dei tifosi, quella giocata mercoledì pomeriggio tra il brienza calcio e l'atletico Lauria sul campo della Fredo Mancinelli di Tito. La finale di Coppa Italia a promozione Mauro Tartaglia è andata all'abrienza grazie ad un colpo di testa vincente di Dalto che al 91esimo, quando la gara stava scivolando verso i tempi supplementari, ha saputo intercettare il pallone calciato su punizione da Leone, riuscendo a spedirlo in rete per l'1-2. L'inzuccata dell'ex difensore del Valdiano ha permesso dunque all'abrienza di conquistare la quarta edizione della torneo cadetto regionale e di imporsi sull'atletico Lauria. Il primo gol che porta subito i Burgentini in vantaggio arriva al 21esimo con un colpo di tacco di Campisano che batte propato sul cross di Tempone. Al settimo della ripresa il pari Lauriotta, Favieri si impossessa di una palla persa da Giampiero Leone e tira un destro imparabile. Poi il 2-1 del valdianese Vincenzo Dalto al primo minuto di recupero che ha mandato invisibilio i tifosi del Brienza presenti sugli spalti. Un importante risultato per il giovane calciatore di Teggiano e per tutto il Brienza Calcio che nel corso del campionato ha saputo imporsi sugli avversari e far tesoro degli insegnamenti di mister Antonello Gerardi e del presidente Mario Margherita. Era finita una partita aderatissima, eravamo tutti quanti estremati. Fortunatamente siamo riusciti a procurarci un'ultima chance prima del fischio finale e l'abbiamo sfruttata al meglio. Quando ho visto la palla arrivare verso di me ho pensato che devo fare per forza gol e fortunatamente così è stato. Dopo il gol tutti i miei compagni sono venuti ad abbracciarmi, è stata una gioia immensa. Essendo un difensore per me è molto difficile fare gol, è soprattutto raro, quindi ha un maggior valore e quando capita è una gioia immensa, poi specialmente in queste occasioni ancora di più. Credo che la nostra vittoria sia stata meritata, certo la squadra avversaria era molto forte, ma siamo riusciti a dare qualcosa in più che ci ha permesso di vincere la partita. La dedica della vittoria va innanzitutto al nostro presidente e al tutto il gruppo, senza mai dimenticare i nostri tifosi che sono stati numerosi. Ancora calcio, parliamo degli impegni, delle formazioni del territorio. In eccellenza, promozione prima e seconda categoria, il servizio di Federico D'Alessio. La primavera porta in dote i primi caldi, ma anche le prime stime. Parliamo del mondo calciofilo che si avvia alle sue battute finali, travolate al vertice e lotte in coda alla classifica. Dovrà vendere cara la pelle il Valdiano, in caduta libera da mesi, nonostante qualche flebile sussulto, vedasi la vittoria esterna di Agropoli di 15 giorni fa. Certo, il calendario del nuovo anno non sembra sorridere agli a Zulgrana, che nel prossimo turno del campionato d'eccellenza, se la vedranno con l'Audax Cervinara, seconda in graduatoria. Forse la trasferta più importante dell'anno per gli uomini di Pasculli, arrivate al punto in cui è vitale raccogliere sempre l'intera posta in palio. In promozione, invece, c'è il Buccino Volcei, che continua a sorprendere per continuità di risultati. Anche due giorni fa, nel recupero contro la Calpazio, i giallonieri hanno vinto per 1-0 fuori casa, facendo sentire il rumore dei nemici alla capolista Angri, ora distante solo una lunghezza. Si preannuncia a battaglia fino all'ultima giornata. Scendendo in prima categoria, il Sassano Calcio, riduce da una goleada rifilata all'Alfanese di domenica scorsa, dovrà vedersela in casa contro il Velina per mantenere il piazzamento play-off e, chissà, puntare anche a qualcosa in più. In seconda categoria, tempo di riscatto per il Certosa di Padula, in piena crisi di risultati. La vittoria manca da troppo tempo e bisognerà far punti contro l'avversario di turno, il Novi Velia. Nel girone H c'è il Real Pertosa, che andrà a giocare sul campo della Prepezanese, seconda del torneo. Una sfida ostica, che richiederà il massimo impegno per portare punti a casa. E per questo appuntamento è tutto. Grazie per averci seguito. Ci ritroviamo domani a tutti un'ottima serata. Grazie per averci seguito.